Vai! Vai, 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 vai! L'intelligenza a tirare! Bravo! Sta andando benissimo! Benissimo! Bravo! 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 Servietta, Cristina, Susanna, Gustav, Cristof, ok, Antonia, Antonia, veloci, veloci, veloci! Antonia, cerca per favore... Ah, sta facendo la pasta, Giussina, dentro! Vai, mancazione! Bravo! Bravo! Salta, bravo! Salta, bravo, bravo! Vai, 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 vai! Vai! Vai, già, e te cantiamo! Vai! Papironcini a mano! Non so, non guarda! Ecco, sta andando con il papironcino! Vai a vedere il papironcino, ragazzi! Vai a vedere i papironcini! Ehi, già lasciato! Già lasciato! Comunque facciamo conto a vedere! Bravo! 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 Buono! 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 Bravo! Buono! 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 Spaghetti, comunque, sono sicuro che buono! Perfetto, grazie amici a te!